L'accordo raggiunto a gennaio 2017 dalle Camere di Commercio di Teramo e L'Aquila, recependo alla lettera le indicazioni della legge Madia, ha stabilito che la sede legale del nuovo ente camerale Gran Sasso d'Italia fosse situato nel capoluogo di Regione, con sede secondarie a Teramo. Il governo però, con un recente decreto, ha cambiato le carte in tavola, stabilendo che la sede legale delle Camere di Commercio accorpate debba insistere sul territorio che ha il maggior numero di imprese, e in questo caso sarebbe Teramo. Dunque è tutto da ridiscutere al più presto, e anche se gli Aquilani potranno far leva su un accordo già concluso, la discussione porterà comunque nuovi vantaggi per la sede e per una leadership teramana. Che cosa risponde all'accusa che hanno scippato la Camera di Commercio a Teramo per portarla all'Aquila? Rispondo che noi abbiamo salvato la Camera di Teramo da una possibile cancellazione della sede, e quindi abbiamo anticipato un decreto che poi è stato cambiato in corso d'opera. Nell'accordo che abbiamo fatto a novembre noi abbiamo messo in quell'accordo intanto che tutte le funzioni, tutto il personale, tutta l'organizzazione, le risorse che oggi la Camera di Teramo ha rimarranno sul territorio, anzi vogliamo potenziarla lavorando insieme agli Aquilani. E' una decisione che non si cambierà? No, non è detto questo, fermo restando che il decreto uscito dieci mesi dopo dalla nostra decisione, che cambia la prima impostazione del decreto su cui noi abbiamo lavorato, è evidente che noi ridiscuteremo con gli Aquilani un'ipotesi di riorganizzazione del sistema camerale e nel contempo vedremo che tra l'accordo ha dimetterci un giusto equilibrio tra i due territori. Per quanto riguarda il Presidente? Quando riguarda il Presidente sarà il nuovo consiglio camerale a decidere chi sarà, chi sarà la Giunta, chi saranno i consiglieri. Sarà frutto di un accordo tra i due territori, tra le associazioni imprenditoriali di Teramo e dell'Aquila di CNA, Confindustria, Casa Artigiani, Confcommercio e quant'altro che come hanno sempre fatto in maniera intelligente e pragmatica decideranno la nuova governanza di un territorio credo uno dei più belli d'Italia. C'è poi un ultimo aspetto in questa intricata faccenda di accorpamenti tra Camere di Commercio. Se mai fossero accolti i ricorsi presentati da quattro regioni italiane sull'incostituzionalità della riforma camerale, allora tutto quello detto e fatto negli ultimi due anni sarebbe di colpo cancellato. Come dire, abbiamo scherzato.